A questo punto Aristotele distrugge per l'ennesima volta la dottrina platonica delle idee e lo fa mettendo in evidenza come la forma, che Platone chiamava idea, non possa mai sussistere autonomamente in maniera disgiunta dalle cose sensibili, sicché non esiste la forma di uomo di cui singoli uomini sarebbero imitazioni, né vi è la forma di casa. Al contrario la forma esiste nelle cose stesse, che appunto sono sempre sinolo, cioè unione, di materia e forma. Dunque la forma uomo non esiste in maniera autonoma ma è una strazione operata dalla nostra mente. Nel paragrafo quarto Aristotele spiega come le cause e i principi delle cose siano individualmente diversi ma analogicamente identici. Se in concreto i principi di cose diverse sono diversi, sono invece gli stessi per analogia, da che ogni cosa ha una forma, una privazione e una materia. Al di là delle quattro cause però ne esiste una universale che è superiore rispetto ad esse. Si tratta dell'essere assolutamente privo che muove ogni cosa, tale è Dio. Poiché tutto ciò che non è sostanza esiste solo nella sostanza o in riferimento alla sostanza, allora le cause della sostanza sono a maggior ragione anche causa di tutto il resto. In particolare l'atto e la potenza costituiscono il principio della realtà tutta. Aristotele chiarisce a tal riguardo come all'atto si riducano la forma e la privazione, mentre alla potenza la materia, sicché le cause efficienti sono potenze nel senso che sono forze capaci di agire e non nel senso in cui la potenza è materia, poiché da ciò deriverebbero conseguenze paradossali. Seguendo questo percorso Aristotele si è sgombrato il campo e può ora finalmente introdurre la dimostrazione di una sostanza esistente, soprasensibile, immobile ed eterna. Una sostanza che muove l'universo senza a sua volta essere mossa. Dopo aver spiegato come le sostanze abbiano priorità su tutti gli altri modi di essere, Aristotele rileva che se esse fossero corruttibili allora non esisterebbe nulla di incorruttibile. Ma questa tesi è smentita dall'esistenza del tempo e del movimento, che sono entrambi incorruttibili per loro natura. Ma per poter effettivamente argomentare in favore dell'esistenza del movimento incorruttibile, eterno e continuo, occorre dimostrare l'esistenza di un principio motore. Un principio motore che, per poter produrre un moto eterno, deve essere esso stesso eterno, e per poter produrre un moto continuo deve essere sempre in atto. Ne segue dunque che il primo motore sarà atto puro ed eterno, privo di materia e di patenza, nonostante questa tesi possa in apparenza essere decostruita dal fatto che, come abbiamo visto, la potenza viene prima dall'atto. Però è Aristotele stesso che ha precedentemente spiegato come se è vero che le cose per passare all'atto devono prima essere in potenza, è anche vero che ogni cosa per passare dalla potenza all'atto necessita dell'intervento di qualcosa già in atto. Sicché l'atto sta prima della potenza. In tale prospettiva Aristotele può duramente criticare i fusiologo, i naturalisti e i teologi per aver fatto derivare tutto dalla notte e dal caos, cioè dalla potenza. Essi non si sono accorti che non si sarebbero potuti muovere senza l'azione di una causa già in atto. Molto migliore appare allora l'interpretazione di Leucippo e di Platone, i quali ammisero sia pure diversamente un movimento eterno che per l'appunto è atto, anche se difettosa è la loro posizione nel momento in cui non seppero giustificare in alcun modo quanto sostenevano. Perfino Anassagora ed Empedocle colsero intuitivamente l'anteriorità dell'atto, allorché ammisero rispettivamente il Nus, Anassagora, e l'amore e l'odio, Empedocle.